bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio della maullo craft allora io sono ullo941 e oggi siamo tornati qui sul nostro bellissimo mondo signorini cosa facciamo oggi? oggi facciamo qualcosa di molto semplice dopo aver fatto il mega wow guarda che bello il mega wow che si vede da qua ma è fantastico signorini è bellissimo allora noi oggi dobbiamo semplicemente fare un attimino il percorso che ci porta al mega wow signori miei perché dico bisogna sistemare un attimino il mondo è bello costruire ma bisogna anche sistemare le varie cose che vanno sistemate quindi facciamo con calma un attimino il percorso che ci porta al nostro mega wow signorini facciamo un attimino un percorso di prova poi piano piano lo scaverò tutto io e insieme poi piano piano andremo a mettere i vari pezzi che devono essere messi allora di qua andiamo tutto dritto dobbiamo un attimino cercare di abbellire il nostro mondo raga perché così com'è fa proprio caca e allora gira di qua dai 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 dobbiamo anche bere un secco di latte perché la maledizione abbiamo ancora la maledizione dei pillager sento dei mostri ma faccio finta di non averli sentiti allora facciamo boh non lo so signori miei facciamoli tutte e due io non ricordo quello abbiamo preso quello questo sì dobbiamo andare avanti con questo di qua dai dai e così dai e così dai di qua si scende quello lì lo possiamo lasciare qua va sistemata la terra e di qua dobbiamo scendere dai e 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 dai i fiorellini blu io li avevo visti e il nostro percorso infatti è qua dai dai unisciti unisciti un giorno signori miei poi dovremo fare anche tutta l'illuminazione di questo mondo bello bellino oh dai è stato più facile è stato più facile a dirsi a farsi che a dirsi ok allora continuiamo con scavare l'altro lembo di strada signori miei questo lo facciamo assieme raga dopodiché da solo mi scaverò l'altro ancora preparerò gli altri mattoni sistemerò tutta questa parte che magari va un attimino sistemato un poco meglio e poi assieme continueremo a mettere gli altri blocchi questo lo facciamo assieme raga allora io sto valutando di farmi una palla nuova perché questa si è rotta sto valutando signori miei di mettere lo snapshot perché la versione 1.16 è ancora non uscita almeno che io sappia se è uscita aggiornatemi che vedo di fare l'aggiornamento ma se non è uscita come so in teoria io voglio sto pensando di fare l'aggiornamento di installare la snapshot ovvero tipo la versione quella di prova che comunque stanno utilizzando tutti su youtube e andarla a così poter andare nel nether perché noi siamo arrivati al non so che episodio forse al 22esimo 21esimo non mi ricordo e ancora non siamo andati nel nether ora siccome sto perfettamente che nel nether ci saranno un sacco di cose nuove e mi servono un sacco di cose che ci saranno nel nether e voglio andare nel nether signori miei e vediamo un attimino di valutare giusto questa idea perfetto aspettate che rompo anche qui raga perché qui mi è rimasto il percorso a metà ok perfetto e qui poi metteremo anche sto valutando di levare questi di qua raga questi legni qua a giro questi e mettere quelli di beturu quelli di acacia quantomeno diamo un colore diverso alla piazza detto questo ragazzoli mi continuo a scavare questa queste corsie di qua e poi ci vediamo quando iniziamo a mettere i vari blocchi al loro posto bella raga ragazzoli ero tornato a casa a dormire guardate che cosa bella dalla finestra di casa mia praticamente si vede tutto si vede la zona delle mucche si vede il monte pollo si vede la torcia del nostro centro piazza la nostra bellissima cassa zona magazzina e l'uovo che svetta dalla sotto bellissimo si vede in una maniera troppo bella allora ragazzoli io più o meno ho preso tutto tutto l'ambra d'anno io sento uno scheletro che si muove non so dove sia però ce ne freghiamo altrimenti scappiamo veloci e non ci pensiamo non ci pensiamo lo scheletro non è un nostro problema in questo momento signori miei allora iniziamo a piazzare un po' di blocchi signori miei iniziamo a piazzare un po' di blocchi questo lo facciamo assieme se no cazzo la faccio tutte cose da solo ah vedete mi sono dimenticato di mettere l'altra pietra a cuocere vabbè la facciamo dopo allora qui dobbiamo mettere questa pietra così facciamo tutto bellissimo il percorso carino tutto così perfetto allora questo deve essere tutto fatto così lo so che il video sarà molto palloso praticamente perché vedere piazzare dei blocchi senza niente di particolare dico non è il massimo del divertimento però dico anche questo è è il lavoro su minecraft praticamente bisogna anche pensare a decorare la varie situazioni ovviamente magari facciamo solamente questo passaggio di pietra e poi il passaggio di legno me lo faccio da solo ok 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 di qua quasi gira e andiamo avanti così dai 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 arriviamo quantomeno alla zona io poi sono lento a mettere le cose raga non ci posso fare nulla dai così dai 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 che poi che vi posso dire raga non so oggi che live ci sarà stata forse avremmo giocato in qualche server di minecraft non lo so c'è da vedere però per ora mi piace come ci siamo organizzati così mi piace il fatto che ci vediamo sempre alle nuove in live tutti quanti assieme e si è creato questo momento di raccoglimento magari prima con le live ci si disperdeva di più c'era chi preferiva un orario chi preferiva l'altro invece magari così ci siamo concentrati tutti in un unico orario e questa è una cosa bella secondo me almeno siamo tutti quanti assieme aspettate che siamo vicini stiamo arrivando stiamo arrivando dai è così dai è così dai 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 io già sento i polli signori io già non li sopporto più ok siamo arrivati praticamente buono così buono buono e ora praticamente tutto quello che dobbiamo andare a fare è mettere tutti questi altri slab a fianco signori questa ve la ve la ve la ve la taglio signori perché questa è una gran rottura di scatolame qua no qua ci va un blocco sana ecco vedete già ho fatto un fail terribile potevo tagliarlo questo e invece lo la faccio vedere perché sembra tutto facile ma così non è sembra tutto facile ma così non è e poi si riparte però dobbiamo partire da quel lato questo blocco si è bugato lo recuperiamo e partiamo da questo lato ok e piano piano facciamo tutto ecco ho sbagliato è che paranoia ma sto sbagliando tutto e dai mettilo qua bello così poi scendi e ci metti nuovamente gli slab perfetto signori miei e andiamo avanti così per tutto quanto il viale dai riesco a completare quantomeno un lato della 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 stradina così quantomeno vi faccio vedere come no vabbè mi rompe troppo le scatole romperlo raga quello non l'avete mai visto questo piccolo fail che ho fatto non l'avete mai visto perché sinceramente mi rompe troppo le scatole dove ah di qua dobbiamo girare ok siamo nell'ultimo rettiline signori miei sono andati 64 blocchi solo per un tratto di rettiline ok anche vero che questo avrei potuto farlo in live signori miei però però secondo me così è meglio però alterniamo alterniamo un po' di i video e le live signori miei dai e quanto cazzo la lontana la piazza signori miei oh siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati perfetto ok praticamente verrà tutto così bello che arriva fino alla sotto detto questo ragazzi mi faccio questa latata di qua anzi sapete che facciamo ora che siamo qua in live leva questo leva questo qua ho pure rotto raga perché qui qualcosa dovremmo inventarci con la strada che arriva direttamente leva questo si leva questo leva questo leviamo tutti questi qua a giro li leviamo dai così dici ma li hai messi e vabbè come li ho messi li levo come li ho messi anche Cristiano Ronaldo questi me li metti tutti così così quantomeno alterniamo il legno della piazza col legno dei viali sennò cazzo la viene tutto uguale e che cos'è monotonia ce li abbiamo i legni sfruttiamoli ecco fatto ok così la piazza l'abbiamo fatta di un colore diverso così spezza anche la megatorcia la megatorcia va bene ragazzoli mi faccio aspettate mi faccio pure questo via intanto scusate che devo fare a meno mi fate compagnia mentre io lavoro ok perfetto ho fatto questo ragazzoli mi faccio quest'altro latata qua di cordola e poi vediamo eventualmente di inventarci qualcosa per questo lato di qua ok ragazzoli allora ho preso tutto il necessario per completare questa costruzione della nostra strada praticamente poi domani vedremo anche di fare il sole alto sì ciao Gino2 e vedremo anche di fare tutta l'illuminazione anche l'illuminazione sarà una gran bella rottura di balons però la faremo allora noi abbiamo messo queste bellissime lastre che le abbiamo oramai utilizzate per fare i gradini quindi li mettiamo anche qui così spezzano un attimino qui ho fatto questo ponticello che ora andremo a completare prima fatemi andare a mettere quest'altra lastre che sicuramente non mi basteranno sicuramente non mi basteranno però noi ci proviamo vediamo se mi bastano può essere che non mi bastano allora 1, 2, 3, 4 così si sale gradualmente 1, 2, 3, 4 dai mi sono bastate mi sono bastate meglio così meglio così torniamo alla zona X ovvero qui nel ponticello io però la taglio un giorno poi faremo tutti i bordi belli con tutti i lampioni carine coccolosi allora questa zona di qua completiamo pure questa zona di qua allora dobbiamo fare 2 di pietra qua 2 di pietra qua 2 di pietra qua e qua sotto ci mettiamo i nostri bellissimi aspettate devo capire un attimo una cosa sopra ok questo è sopra questo è sotto questo è sopra ok quindi qua dobbiamo metterli i nostri bellissimi moretti di pietra dove l'ho messo non lo dovevi metterla dovevi mettere qua ne ho perso uno però non fa niente nessuno ha visto niente signori miei nessuno ha visto niente allora me lo devi mettere lì qui eh ho sbagliato i calcoli ma perché sono scemo ma perché sono scemo qui non ce lo posso mai mettere breve taglio pubblicitario signori miei ok siamo tornati l'abbiamo sistemato velocemente quindi facciamo 1,2 qui perfetto e a fianco mettiamo l'altro che sorregge il nostro bellissimo ponte al centro nel momento in cui c'è la parte sopra elevata dopo di che continuiamo a mettere i nostri bellissimi slab così così e così e così completiamo anche da questa parte se no poi mi viene complicato così 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 e così perfetto andiamo dall'altra parte signori miei e mettiamo qui dobbiamo aprire un attimo perché non va così 1,2,3 e 4 perfetto dobbiamo mettere slab di pietra slab di pietra che però io sono di troppo ok slab di pietra 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 e poi invece slab di legno slab di legno e slab di legno e anche qui slab di legno perfetto signori miei così abbiamo anche il nostro bellissimo ponticello che sale di qua e scende da quest'altra parte e abbiamo unito anche quella zona di lì l'unica cosa mi sono dimenticato di mettere anche i pilastrini di pietra qui che vanno messi in corrispondenza di questo di qua forse guardate la mega caga oh no 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 l'ho preso giusto l'ho preso giusto l'ho preso giusto pensavo di che sto a fare il mega fail terribile invece l'ho preso giusto riesco a scendere in questo quadrato di lì di terra sì grazie gentilissimo dai così dai così dai così ok perfetto è il nostro bellissimo slab i nostri bellissimi ponticello è tenuto dal dai mattoncini di legno detto questo ragazzoli io vi ringrazio per partecipare a questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti spero che vi piaccia questo piccolo ambadonna che stiamo facendo poi dovremo fare anche tutta l'illuminazione signori mie carina con tutti i pali che ci sono da qua e con le lanterne in mezzo ma cosa che non faremo in questo video detto questo con l'uovo là in profondità io vi ringrazio per partecipare a questo video per averlo guardato per i like per i commenti per i suggerimenti noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un altro contenuto bella raga ciao